Per attivare le finestre laterali bisogna selezionare il menu Workspace in alto e successivamente Inspector e avremo quindi sulla destra in alto tutte le informazioni rispetto al nostro filmato. Per attivare gli effetti per esempio torniamo su Workspace selezioniamo ecco selezioniamo effect effects e apparirà in basso a destra tutta la lista degli effetti installati.